Salve a tutti, sono Alberto Ornolfo, coordinatore del gruppo di Savigliano. Siamo anche noi nati poche settimane fa, siamo ancora in pochi ma cercheremo di crescere e di aiutare Guido Bione alla candidatura. Inoltre si sta cercando di formare il gruppo di Marene in cui lavoriamo insieme anche in collaborazione col gruppo di Fossano perché uniti si vince.